Ciao a tutti ragazzi per rientrare in questo nuovissimo video Oggi andremo a vedere i miei nuovi video Vecchi video, quanti vi suonano? Iniziamo Il video dove troviamo la mitica a 20 visual Facevo arrivare almeno a 30 qualcosa Edito in un video, 15 Gioca Sonic Dash 9, sfortuna Volevo che arrivava a 1000 visual Guardo gli ischibi di Toilet Park 4 12 visual 11 settembre 2023 10 visual 10 settembre 2023 7 visual Dai giuro che tra un mese Mi ritroverò a 1000 iscritti Se vi iscrivete 5 visual Lion 9 visual Gioca 3 giochi a caso strani di Roblox 6 visual Gioco con l'Oregis 15 visual Ritorno a giocare a Minecraft con voi 14 visual Gioca Brawl Stars 20 visual Voglio diventare un bro Fare tanti trick Su StumbleGuys 5 visual Spider-Man La canzone si chiama Spider-Man Andatelo ad ascoltare 33 visual Sono Spider-Man Sono Spider-Man A dopo Devo sconvincere i cattivi Vieni qua Cosa volante verde 21 visual Ho preso di nuovo Ho preso il mio vecchio account 429 visual Mi avevano rubato il mio vecchio account 28 visual Gioco per la prima Gioco per la seconda volta Con un mio fan 49 visual Live Compro il premium di Brokeven 2108 visual mi pare Domani sera O prima Live Acquisto il pre Questo era Per uno spoiler Ovviamente era il premium Di Brokeven Cioè Cosa non poteva essere Con la E Con il pre Allora Canzone di Mico 27 visual Gioco a un gioco a caso Ragazzi Dobbiamo andare a vedere I vecchi video Quanti visual aveva Non dobbiamo vedere I nuovi video Di quanti visual aveva Noi dobbiamo vedere I vecchi video Quanti visual aveva Andiamo a vedere Questa cosa mi puzza Perché Il mio primo video 57 visual Il mio secondo video 33 visual E la canzone Game 6 Spiaggia 43 visual Gioco a Fortnite 27 visual Suss Molto suspetto Molto Molto Suspetto 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 Poi ci abbiamo Scontro Parte 1 William Games PSS Dancing Serbian Lady Vi lasciamo La serie Quella vecchia Magari qualche giorno Ci porterò Un altro video Gioca insieme A Manuel Gamer Su Stamberg Che se è Roblox Vabbè Quello era il primo video Con Manuel Gamer Il mio amico Che c'ha pure un canale Ehm Mi riuscite a stare Tanto ho fatto uno short Su dove vi dovete iscrivere Al canale di Manuel Gamer Dopo fare un altro short Che L'identico Short Non scherzavo Un altro short Su dove vi dovete iscrivere Nel canale del mio amico Manuel Ecco mi chiamo Non scherzavo Manuel Ehm Quante visual Me Però Se andiamo su popolari Me Guarda quante visual Su popolari ci sono Io non immaginavo Così tanto Il mare bellissimo Parte 3 Ho tanta visual Sonic Squad Tanta visual Ultimate In Custom Night C'è tanta visual No Ehm FNF Mod William Games Ultimate In Custom Night Parte 2 Ehm Voglio andare su Meno recenti Ah Questi sarebbero Meno recenti C'è Meno recenti Cioè sì Sarebbero Meno recenti Cioè sì sarebbero meno recenti Ma questo Sarebbe Meno recento Meno recenti Che ha 188 visual Ma secondo voi Questo che ha 188 visual Io sono andato su Meno recenti Mi dovrebbe dare Quello di 188 visual Per me Per me Non so Non so Non so Un po' Ehm Aiai Guardate Il mio vecchio team Il mio vecchio team Di Istanbul E FNF Me lo fa Ok Credo che sia Bagato Guardate Il mio vecchio team Di Istanbul CXB Quel team Era bellissimo Non mi sono costretto Cambiarlo Ero costretto Vabbè ragazzi Prima che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao